Ecco la soluzione dell'esercizio sulla legge di Stevino assegnato per compito. Si tratta effettivamente di un esercizio relativamente difficile per una classe prima liceo. Intanto bisogna intendere qual è la situazione. Abbiamo l'acqua contenuta in un bicchiere cilindrico con area di base 3 cm² che viene travasata in un altro bicchiere cilindrico con area di base minore. Qui vi ho rappresentato i due bicchieri. Se l'acqua viene travasata dal primo bicchiere nel secondo, la cosa da notare è che siccome il volume d'acqua sarà lo stesso, questo volume in un contenitore d'area base inferiore raggiungerà un'altezza superiore. Indichiamo ad esempio con H1 l'altezza del liquido nel primo contenitore e con H2 l'altezza nel secondo. H1 e H2 sono legati fra di loro. Infatti, come abbiamo detto, il volume d'acqua è lo stesso. Quindi A1, area di base, per H1, quindi il volume dell'acqua nel recipiente 1 è uguale A2 per H2, ovvero il volume dell'acqua nel recipiente 2 che è lo stesso. Per formule avverse si può ricavare che l'altezza dell'acqua nel secondo recipiente sarà data da A1 fratto A2 per H1. E siccome conosciamo tanto A1 quanto A2 perché valgono 3 cm² mentre A2 vale 2,4 cm² mentre invece H1 non lo conosciamo possiamo però dire che 3 fratto 2,4 vale 1,25 H1. Quindi l'altezza nel secondo contenitore è data dall'altezza nel primo moltiplicata per 1,25. Queste informazioni ci serve per calcolare la variazione percentuale della pressione idrostatica. Intanto notiamo che la pressione sul fondo del secondo contenitore è più alta della pressione sul fondo del primo. Infatti, come dice la legge di Stevino, la pressione dipende a parità di liquido e di gravità dalla profondità del liquido. Quindi la stessa quantità d'acqua in un recipiente più stretto determina sul fondo una pressione maggiore. Cosa si intende per variazione percentuale di una grandezza? Beh, si intende sempre la variazione riferita al valore iniziale. Quindi diciamo, se indico con P1 la pressione al fondo del contenitore 1 e con P2 la pressione al fondo del contenitore 2 la variazione percentuale sarà P2-P1 quindi la differenza di pressione che c'è stata diviso P1 che è il valore di riferimento. Ma questo sarebbe solo un valore relativo per ottenere la variazione percentuale bisogna moltiplicare per cento. Notate che in questo caso siamo certi che P2 sia più grande di P1 se non fosse così si metterebbero le sbarrette di valore assoluto di modo che qualunque dei due fosse più grande la differenza avrebbe sempre un numero positivo. Vediamo come si può arrivare al risultato. P2 e P1 si calcolano con la legge di Stevino. P2 sarà dato dalla densità del liquido per G per H2 quindi l'altezza del liquido nel secondo recipiente meno P1 densità del liquido per G per H1 altezza del liquido nel primo recipiente fratto densità del liquido per G per H1 il tutto moltiplicato per 100. Sviluppiamo raccogliamo numeratore D e G quindi otteniamo D per G per H2 meno H1 diviso D per G per H1 moltiplicato 100 come notate è possibile semplificare D e G e quindi il nostro risultato è H2 meno H1 ma noi sappiamo che H2 l'abbiamo ricavato prima qui H2 vale 1,25 volte H1 meno H1 diviso H1 per 100 raccogliamo anche qui al numeratore H1 cosa viene? H1 è dato da 1,25 meno 1 diviso H1 per 100 semplifichiamo H1 ecco perché non ci avevano dato il volume del liquido non era necessario saperlo e otteniamo 1,25 meno 1 quindi 0,25 per 100 quindi moltiplicandolo viene 25 e questo vi ricordo è una variazione percentuale quindi 25% insomma un problema non semplice per il vostro livello iniziale di studio della fisica anche perché avete dovuto affrontare il problema senza dei dati numerici quindi tutto in modo simbolico capisco la vostra difficoltà e quindi era giusto vedere la soluzione insieme grazie a tutti